certo che è triste per noi artisti sta situazione eh? io che sono regista horror ma qua non finisco il film manca di che posso lavorare smart walking eh e il sangue non ce l'ho e il fumo non ce l'ho ah no no il fumo c'è c'è che poi ci dicono che stai tranquilli che stai calmi chi si agita io sto calmo c'è solo una cosa che mi mette l'ansia la pubblicità del coronavirus del ministero della salute alcune semplici raccomandazioni per contenere il contagio ma senti l'ansia? lavati spesso le mani con acqua e sapone ma senti l'ansia come sale? a base alcolica sto agitato sto più agitato di maria luisa rossi occhi occhi non toccarti occhi naso e bocca con le mani che poi che è? una parente ad Anthony? vabbè sai che faccio mo? mi fumo uno bello scaccia pensieri così mi rilasso un po